Ultima minuto con il Mantua che avanza, l'ultima azione del primo tempo, insieme si sta giocando sul settore di sinistra, attenzione, nel mezzo, palla del furetto, palla del furetto di paro, che praticamente a metà strada tra il dischetto del rigore e la porta in fila, 1-0 per il Mantua a sua presa, proprio in pieno retupo, ed ora tutti gli spogliatori, incredibile qui alla Serie Gallia, proprio sul fischio di chiusura del primo tempo, mappa, 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 mappa!